Ciao a tutti amici, oggi siamo qui a casa dei miei nonni in su, seduta su una bottengina, ai miei dei quadri video, c'è mia sorella che si vede, la televisione, e adesso cosa faccio, non lo so, che adesso, che adesso, sono, è presto, adesso abbiamo finito di mangiare, papà, è andato a cacciare il mio cagnolino, guardate la mia manuola, io sto giocando, con la manuola, E' bella, mi piace questa vlog, scrivetelo giù nei commenti, E' oggi stasera, non so cosa video fare, volevo fare questo video, ma non so che devo fare, Adesso chiudo i sonni, Jeff for Grandpa, ecco, cambiato, sono le quattro, forse, ho detto, Adesso vado in cameretta, ma prima devo fare pipì, adesso sono le sirene, forse mi vedo prima le sirene, Questa cartone non finisce più, guardate il mio occhio, E' finito, amici, Adesso cosa facciamo, Adesso cosa facciamo, Adesso cosa facciamo, Mi sa che sono le quattro, Mi sa che sono le quattro, Non è durato poco, Adesso facciamo, Nel frattempo, faccio un video che lo pubblico un altro giorno, visto che mi annoio, Per la cucina non so le 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 so le, ho fatto pipì, ho fatto il video, e poi credo che si finiscono le 5, nel frattempo soffriando si mette in via la televisione, ora devo vedere il video, baby looney tunes adesso mettiamo LOL su base di mania, cosa faccio fare pipì? questo è il bagno, poi mi faccio un tuor, adesso metto la telecamera qui ti vediamo, pipì, adesso è arrivato papà, che prima era a cacciare il mio cucciolino, ma ciao, adesso vado da lui ti vediamo il video, che fai papà? il video fai il video? mh che bello, mi fa papà su per sempre tu su, cuore ci sono di me stai facendo video su youtube? si, però eh? però poi non la metti però poi non la metti? no ciao 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 io guardo nella mia cameretta fare un altro video ciao 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 ehi, amici, sapete che io non so fare i sondaggi? scrivetemi nei commenti come si fanno perché io non li so fare e devo farvi un sondaggio per il prossimo video e scrivetemelo giù nei commenti e dite ai vostri amici di iscrivervi al canale ma questo video non è di certo finito, anzi faccio un altro ho già in mente quale fare così non vedete il mio crudino tutto spinecchino e poi dopo andiamo un po' in giro non so come chiamare questo video quindi ditemi io scrivo un sondaggio come lo devo chiamare credo che la combinazione spettate 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 e dopo metto un altro video poi anzi no non lo voglio finire qui il video perché dopo devo fare tante traventure ne farò due allora adesso faccio il video il prossimo e poi ci vediamo perché devo mettere pure cellulare a caricare perché scarico forse vero mamma scarico detto il cellulare ci vediamo tra qualche ora per me forse adesso andiamo al parco tra qualche minuto ci vediamo per me qualche ora perché sono le quattro mamma sono le quattro e mezza grazie sono le quattro e mezza e adesso iniziamo a fare prossimo video ciao ci vediamo dopo